E allora, questo qua è il bastone elettronico per non vedenti, praticamente qua ci sono tre sensori, due che trasmettono e uno che riceve, e sono ad infrarossi. Noi li abbiamo impostato 30-40 cm prima dell'ostacolo in cui arriva l'impulso qua dentro, che c'è la scheda programmabile Arduino Nano, serie Nano, programmazione in C, e arriva un impulso qua che permette la vibrazione, quindi permette al non vedente, quando si avvicina ad un ostacolo comincia a vibrare, più ci avviciniamo all'ostacolo e maggiori sono le vibrazioni. Poi abbiamo applicato questa fascia di LED, che serve per le ore notturne, e anche questa fascia catalinfrangente, per farsi notare. All'interno, sempre qua dentro, c'è una batteria da 9V che alimenta tutto il circuito, e il manico, è stato creato nelle aule meccaniche ai torni a controllo numerico. Abbiamo fatto questa incanalatura, così il non vedente si accorge che i sensori sono lì qua per andare avanti e evitare l'ostacolo.